regia e pubblicità per campare per scelta o nell'attesa assolutamente per scelta andando contro anche un po quella che è la mia famiglia perché è una cosa che la regia è una cosa veramente distante da dalla storia della mia famiglia perciò dovuto lottare per farlo il lavoro nella tua rile che più ti rappresenta quello che più mi rappresenta non lo so quello a cui più sono affezionato di sicuro è lo spot per nike perché è di qualche anno fa è stata la mia prima volta di tante cose è stata la prima volta su un set davvero importante ero teso è stata la prima volta con un testimonial come maldini e quindi insomma è stata un'emozione tra le più forti che ho provato nella mia vita c'è un lavoro nella rile di qualcun altro che invidi molti molti perché mi considero all'inizio della mia carriera perciò vedo costantemente lavori che a cui ancora io non posso aspirare ma che vorrei tanto fare un giorno quindi quasi tutti in realtà sono mi suscitano invidia è un invidia positiva però perché mi spinge a fare sempre di più la creatività italiana mediamente vince poco nei pod internazionali nei premi cosa le manca le manca il coraggio di non guardare agli altri nel senso che secondo me la creatività italiana è è forte forse il problema che guarda troppo a quello che fanno gli altri e imita troppo quello che fanno gli altri il risultato è che siamo sempre un po spesso sempre no spesso la copia di qualcosa che c'è già dalla pellicola al digitale una figata o si stava meglio quando si stava peggio la pellicola l'ho vista proprio poco è giusto un po la scuola di cinema devo dire dire per forza che si sta meglio adesso c'è più libertà puoi divertirti di più sul set senza paura di sbagliare perché puoi permetterti di sbagliare un po di più di prima quindi puoi stavo pensando prima tutte quelle cose che negli ultimi anni vanno molto di moda cioè tutti i flare in macchina che si vedono molto negli spot quelle cose erano molto più difficili da fare una volta ora va di moda perché si possono fare quelle cose prima se le sbagliavi erano scene buttate il talento cambia a seconda del passaporto no assolutamente no cambia la visione del mondo cambia il punto di vista perciò cambia la visione che che ciascuno ha del mondo ma il talento credo che sia una cosa innata cosa fai nel tempo libero nel tempo libero faccio tante cose innanzitutto mi riposo e per riposarmi faccio tante cose ovvero faccio tanto sport gioco pallacanestro vado in bicicletta guardo tanti film tante serie tv sto con mia moglie cose normali spot video per il web storytelling brand content tutto chiaro così così secondo me c'è un po di confusione nel marasma generale c'è tanta voglia di fare tutto con risultato che poi forse le energie si disperdono in tante direzioni e l'efficacia dei messaggi si perde un po forse avere più chiare queste cose forse che farebbe capire anche un po meglio in che direzione andare a seconda del progetto a seconda del delle necessità e quindi insomma essere più efficaci nel comunicare il potere dei no nella tua carriera il potere dei no nella mia carriera ma assomigliano un po ai no della mia vita i no sono importanti bisogna dire di no ogni tanto ti servono ti servono per mettere dei paletti devo dire che devi avere però comunque presente quali sono i tuoi obiettivi perché sennò questi no diventano un po o vengono percepiti un po come dei capricci cosa si può fare per la comunicazione oggi subito nell'interesse di tutti questa è una domanda difficile di sicuro avere un po più di coraggio come dicevo prima guardare un po meno agli altri e osare un po di più io spesso mi trovo a lavorare su progetti che in partenza potevano avere una buona idea e che poi per paura paura di essere troppo arroganti o troppo scorretti politicamente si riducono ad essere uno dei tanti video nel mare del youtube nel mare della pubblicità che non vengono notati mentre invece a volte l'idea iniziale quella vincente va perseguita con forza insomma se non avessi fatto il regista se non avessi fatto il regista non lo so sicuramente avrei trovato un modo comunque per fare qualcosa di creativo però devo dire anche che forse appartenendo una generazione che ha fatto della duttilità il suo punto di forza non ho un'idea precisa ma non mi sarei non avrei fatto fatica a trovare qualcosa d'altro da fare